Ciao unicorni! Allora oggi sono ritornata qui per farvi il vlog, scusate, insieme a Beja e Lucia dei Fantastici 4 poi arriveranno anche amici loro e comunque scusatemi se questo è il mio domenico e non ho pubblicato nessun video riguardante i vlog che vi avevo detto la prima domenica, la prima domenica, la prima domenica non ho potuto perché l'avevo pure iniziata, solo che poi era quasi arrivata alla fine l'avevo trovata tipo... era insignificante così fare di nuovo un vlog e quindi ho cancellato tutte le parti il secondo non l'ho potuto fare perché i miei genitori comunque erano lontani non come l'altra volta, però vi posso sempre lasciare delle clip o delle foto da qualche parte, non lo so come farò per iudis e... niente non so... ah sì... sono quasi le nove io mi sono svegliata alle sette uno perché mio fratello mi sta mettendo le canzone e due perché io sono super eccitata appunto e comunque ci vediamo quando sono vestita e tutto e adesso dovrò prendere anche il libro perché non lo voglio prendere a panorama ho paura che poi... ehm... cioè vado lì non ne è rimasto manco uno può dar... sicuro non succede o almeno credo però lo voglio prendere come un dragone niente un dragone e... ah e comunque noi andiamo a formia a panorama ah e comunque non ci fate caso se ho tutto quanto qui rosso però sono i morsi di tantara perché? perché sta arrivando l'estate io sono contentissima di questo ma non per i morsi ah ecco mi sono vestita però mentre stavo per cominciare un'altra volta il vlog mi ero dimenticata di dirvi che mi sono tagliati i capelli non so se ci avete fatto caso molti già lo sapranno però li ho tagliati sabato scorso? scorso non lo so se li avevo gli uomini fino qua ora ce li avevo fino qua mi piacciono però solo che all'inizio appena li avevo tagliati facevo così dove sono i miei capelli? perché? perché tipo prima mi arrivavano qui giù quando facevo così e così compro il libro perchè ci sono tutti quanti libri non c'è quello di Iris, guarda a casa poi ho visto anche un insegno poi metterò forse la foto da qualche parte c'è un insegno che c'era per Iris Iris e stava venendo qui Iris allora ecco sono arrivata ho già comprato la fascia e il libro ho incontrato anche Bea adesso vado a dare la fascia io sono il numero 327 invece Bea è 320 e Lucia non è ancora è un'altra è un'altra mi facciamo un'ultima urla così ma lo ascoltiamo 1,2,3 ciao ciao grazie mille per essere qui questo block questo block non è ancora finito qui questo block questo block non è ancora finito qui appunto perchè siamo ancora da Iris stavamo per venire lei è 320 e io 327 e Lucia era 400 e qualcosa solo che sopra l'altro si è morto è andato via è morto? no è venuto e se ne sono dovuti andare no no è ancora lì però adesso andiamo e siamo andate fuori ci hanno truccato così al libro andiamo più a meno non ho messo quello più scuro ciao